Vinci e se ti tiracchetto non gravi. Attenzione che sta succedendo qualcosa. Sotto la porta mi sa che non ci passa. Dammi un po', prova un po' a passarla sotto la porta. Non ci passa? Dai ce la fai Antonee. Ecco dai. Ok. Ma cazzo se lo sei veramente facciato, che cazzo è successo? Porca troia. Cazzo. Tu vuoi bene in questo momento. Nei riunimi di andati. No, aspetta, vabbè. Chiamai un attimo Simone che lui è più tecnico. Simone, Simone. 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 Ha detto che sei più tecnico, che lui sta solo sulla soletta. Sì. Sì. È rimasta dentro la cosa, però. Eh, vedi un po'. Ma come è? Che cosa cazzo dentro? Eh, ci sta andando dentro. Sei sicuro che questa è la chiave? Eh, questa c'è stava. Questa è qua la chiave Simone. Aspetta eh. Porca troia. Porca troia. Dai, ho preso l'accetta, dai. Togli sulla porta. 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 Deve entrare di più? Eh, deve entrare di più. Ma io da qua non l'ho mai aperta. Io da dentro. Ma dì Antonella di provarla. Ma sei sicuro che è questa la chiave? Sì, ma da dentro funziona. Da qua non c'ho mai provata. C'è una finestra che dall'esterno dove c'è entrata? Eh no, perché è stata lì feriata. No, ma ora la risolviamo. Guardi, perché non è? Ma te la portate sotto la porta. Sì. Rilaggiela. Antonessa. Senti povero. Vuoi riprovare un attimo? Mi senti? Mi sento il telefono. Non la devi infilare tutta? Sì. No, cerca prima di farlo. No, togliamo sta chiave, va? Leviamo la chiave. No, non me l'ha mai fatto questa cosa. No, no. Tanti albù. E' antì. E' una dichiarazione a caldo. Una dichiarazione. Questa non ci va a domani, stasera. Ci va a stare. Me l'ho un po' provata. Me l'ho un po' provata ma sono riuscita a uscire. Cosa pensa della certezza della pena in Italia? In questo momento. Brava! Grazie. 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 Grazie.